A mal in cuore dobbiamo abbandonare questa maggioranza per il fatto che soprattutto riteniamo che non sia stato messo in pratica tutto un piano strategico che ci eravamo spiegati nel momento in cui avevamo scritto il programma elettorale che è un programma elettorale che assolutamente poteva mantenere le sue promesse se appunto fossero stati messi in atto tutta una serie di progetti. Riteniamo che ci sia un'importante perdita di competitività della città, che ci sia un impoverimento delle attività commerciali dovuto al fatto che non è stato messi in atto un vero programma di rilancio delle attività turistiche ed economiche in grado di dare un vero slancio alla città. E quindi a questo punto riteniamo che il nostro lavoro sia più utile fatto dall'esperto che questa maggioranza e non al suo interno.